EFLUVIO Capita a volte sul tram o sul treno di viaggiare con certi tipi refrettari al sapone, o all'acqua perlomeno, il cui aspetto all'odor non è pari. Di fatto nessuno incolperà l'ascella del fusto della bella damigella accanto a me, che per l'orario non pecco in abluzioni ma in vestiario. Annuso già il pensiero della gente che dell'effluvio indaga la sorgente.